Ciao Aurelio, bene arrivato, tutto bene? Sì, sì. Io ora sei perfetto perché sto mettendo, proprio mettendo la Iolda e poi c'è la tua. Questa è una catareta abbastanza dura, un avanzato. Grazie. 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 Irrigazione spenta. Quanti anni ha signora? Quanti anni sono? Eh? 80 anni. Io sono della 61. Sì, voglio dire. Perfetto. Ci andiamo a domani. Questa cosa è in comune. Adesso qui a Aurelio montiamo il video che c'è Arturo, ora ti presenta il nostro informatico. Arrivo e signora abbiamo finito, manca l'ultimo pezzettino ed è libera. E' stata bravissima. No, è stata una catarattona molto dura. No, no, per il male si può pure perché... Molto dura, eh. No, adesso... Ha respirato. Eh, abbiamo finito, signora Guardi. Mezzo secondo. Pochi secondi. Ecco, ferma così. Adesso l'ultima fase. Si, com'è la stagione? Antibiotico? Si, e poiggedrò la... Si, si... Grazie. 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 Grazie.